oggi vi racconto di alcuni luoghi infestati dai fantasmi cominciamo il nostro giro dal belasco theater che a quanto pare è animato proprio dal fantasma del signor belasco ovvero colui che lo ha aperto nel 1907 ci spostiamo all'hotel chelsea dove oltre a rumori di passi voci e musica che alcuni raccontano di aver sentito sembra possibile incontrare nancy spongen fidanzata del bassista dei sex pistol sid vifus ed assassinata proprio in questo hotel al south street seaport si trova il bridge cafe qui sembra che sia stata vista affacciata alla finestra una donna corpulenta somigliante a gallus mag che lavorava qui come buttafuori quando in questo edificio si trovava un bordello concludiamo il nostro giro a washington square park secondo alcuni racconti in alcune zone della piazza alle volte si viene avvolti da ventate di area gelida e è possibile anche imbattersi in persone che vestite in abiti sudici cercano di uscire dalla piazza senza riuscirvi sparendo poi nel nulla grazie a tutti